Una squadra fatta di uomini, donne, ragazzi e ragazze davvero di valore e di pregio e perché bisogna passare assolutamente quanto prima dall'avatar di un'amministrazione a un'amministrazione vera. Non posso non far notare che in questi cinque anni questa amministrazione ha prodotto molti rendering. Abbiamo il rendering dell'ospedale, abbiamo il rendering del centro congressi, abbiamo il rendering dell'auditorio, abbiamo il rendering del PPU, abbiamo un sacco di rendering, però dei libri esecutivi pochissime. Credo che Padova, merito dell'amministrazione, che sappia intervenire a 360 gradi su tutto il territorio della città di Padova. Come si batte Rossi? Rossi si batte semplicemente dicendo la verità, dicendo ai cittadini padovani che cosa non ha fatto questa città. Questa città nei suoi parametri è peggiorata, ha avuto un tracollo fortissimo rispetto a 5-10 anni fa. La responsabilità ovviamente non è solo dell'amministrazione, perché c'è stata una crisi che ha devastato il nostro paese. Certo che in momenti di crisi come questa serve al timone uno che abbia le idee chiare e che sappia portare la barca in porta.